Un'edizione da ricordare e l'oro delle farfalle azzurre ai cinque cerchi è stata la ciliegina sulla torta. Si è conclusa domenica 3 settembre la 35esima edizione dei mondiali di ginnastica Ritmiga Pesaro 2017. Un evento internazionale che ha portato l'Adriatica Arena e Pesaro nelle case di milioni di telespettatori sparsi nei 53 paesi che hanno trasmesso la manifestazione sportiva. Le nazioni partecipanti sono state 53 e le ginnaste che si sono esibite sulle pedane dell'astronave 258 e i componenti delle delegazioni oltre 650. 185 invece sono stati i volontari provenienti un po' da tutto il mondo. Il pubblico ha risposto alla grande, le presenze sugli spalti durante i cinque giorni di gara sono state quasi 22.500, superate le previsioni che stimavano circa in 20.000 spettatori. Piena soddisfazione per la riuscita dell'evento anche per il primo cittadino di Pesaro che afferma abbiamo dimostrato che siamo in grado di ospitare qualsiasi tipo di manifestazione sportiva anche intervenendo sull'impiantistica, spiega, grazie ai lavori fatti sulla copertura dell'Adriatica Arena che ora è una struttura unica, funzionale ad ogni evento, aggiunge il sindaco, con la nuova tribuna Prato che inaugureremo domenica, completati così anche i lavori allo stadio. Un'occasione per l'amministrazione comunale per parlare della stagione turistica e delle strategie future. Abbiamo visto una città piena di gente e di iniziative, si è parlato tanto di Pesaro in queste settimane, così rispetto al passato, spiega Ricci, anticiperemo ulteriormente gli stati generali del turismo tenendo presente che il prossimo anno sarà particolare con il centocinquantesimo di Rossini. Bilancio positivo anche per le piscine, quella del Pentathlon in via Togliatti aprirà la prossima settimana. Infine, entro il mese di settembre, continua il primo cittadino, partiranno i lavori al vecchio Palace nel 2018. diventerà un'arena da 2000 posti, un luogo medio adatto per la musica, sport ed i congressi.